Coronavirus, il contagio continua a frenare, meno di 200 i positivi in provincia di Belluno, con gli ospedali che contano 11 pazienti in area non critica e uno in terapia intensiva, 6 invece le persone ricoverate nella struttura di comunità di Feltre. Da Venezia il presidente Zaya ha quindi annunciato l'apertura delle vaccinazioni per tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per patologia a partire già dai 16 anni e la priorità, secondo il governatore, va data anche agli operatori del settore turismo a tenere banco ancora il tema delle seconde dosi ai visitatori che passeranno le vacanze fuori dalla propria regione. Stiamo parlando di un servizio che è la ciliegina sulla torta, non è che la gente va in massa in vacanza per farsi fare la seconda vaccinazione. Ho apprezzato e ho visto che comunque la quasi totalità degli esponenti politici, con ruoli anche nella sanità, piuttosto che il mondo degli scienziati, e comunque tutti condividono l'idea che se una persona vuole farsi la seconda dosi in vacanza se la può fare. Considerate che quando parla il Veneto parla la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze. Da noi arrivano da tutti i paesi, il 67% di questi 72 milioni di presenze sono stranieri. e poi sono tutti gli italiani, siamo partiti con la campagna di promozione anche in Italia oltre che all'estero.